Ok, parliamoci tutti, mi raccomando. Tu mi vedi proprio attra, Alphandar. Ho più risposta che una Quamma Queen ha occhi. Sto parlando di Chodlera. Saren ha chiesto di aiutare, chiesto di pazza, ma io non credo. Dobbiamo stoppare Chodlera, e per fare questo bisogna trovare un modo per rispondere il strumento che ha avuto. Prendete il Barozar e sicuro che il mage che ci abbia avuto qualcosa che possiamo usare per salvare il Lord Vivec. C'è un uomo sicuro che si può spettare la Quamma Queen? Non, ma per tutti i conti, ci saremmo meglio con Sunara in le nostre mani e fuori da Chodlera. La femmina Ashlanda? Beh, se questo non è abbastanza di ragione, ricordate che è anche la chodlera di Chodlera. Vabbè, ok. Che ma quanto parla? Non mi spettacolo. Adesso quando usciamo voglio vedere sta luna. Ah, magari inteso sto cosa enorme. Ah, quel cosa, sì! Può essere. Bella l'acqua, con i dettagli così. Eh, hai visto. Adesso nuortiamo alla Fantozzi, no? Mi sa che era... No. Ah, orizio. Ok, ah, ho capito, dobbiamo tornare dal tizio, ok. Ok, hai capito, eh. Eh, no, mi ricordavo più cos'era la Balizar's Tower. E dove abbiamo fatto l'Enigma. Sì, dove abbiamo messo tutte. Che suona un po' come... Magma! Giusto perché mancava. Esatto. Enigma! 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 Su... su internet di colori dell'arcobaleno che è questo. Esatto. C'è come usare internet. Comunque, questo ha detto... questo ha detto Kibbutz, eh. Non so se... Kibbutz? Eh, che succede? Eh, c'è... 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 C'è gente... C'è... Eh, infatti... Non me lo aspettavo, cazzo! Oh, è cazzo! Oh, è cazzo! E uno cazzo! C'è uno cattivissimo qua! ha diventato tanti che cosa è dentro e dentro e dentro e dentro e dentro di questo è un robot ah, qui è in italiano no no, è in inglese io non ce l'ho alla mod installata all'intanto aspetta che gli chiedo anche dei daedria ho trovato delle banane pesce del pesce nel cassetto esatto vabbè arrivo stavo finendo di dove sono i tipi a cui chiedere ah, no, sono la ah, minchia, sono lontano no, 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 di qua di qua, di qua, di qua sono da vicino sono belli i riflessi sull'acqua si, spettacolo si, no, ok sono di eteo e sopra o sope o di eteo no, sopra, sopra ah, chi è che suona? qui c'è un chi è che canta? c'è un bardo dov'è? dov'è il bardo? non vedendo ma questo beve chi è che canta? no, questa legge infatti non capisco chi è ah, là c'è uno vabbè comunque dobbiamo parare con c'è Blasio Blasio Leona ti frutta? dobbiamo andare nelle Nucle Nuclel ruin in fondo nelle rovine bene c'è una grande macchina quando ero spettacolo e vibrato colapsando le parti del cilindro la lava e la roccia erano a tutti dove bisogna andare pasto e alcuni construtti per ritrovare l'acqua il mage è un minuto oh, ha sempre pagato bene ma i posti che mi chiede erano più pericoli che la ultima e se ho avuto di ascoltare la grande gira una volta qua dentro nella locanda che bella locanda qua c'è una lì c'è una qua secondaria dove sta il tipo però sarà sotto e qua oh mi scusi signora ma lei sta così infatti è un po' ignuda e hanno fatto qualcosa al fratello io voglio essere voglio diventare un vampiro quindi mi faccio mordere se lo trovo quindi è scappata dai vampiri dove proprio l'ha vista in questo galom deus aspetta aspetta questo mi interessa e poi li dobbiamo uccidere comunque è questa che canta questa qua che brutto sguardo però è una bella voce però la faccia una bella voce è un po' è un po' mi ha fatto mi è venuto in mente eh drin 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 telefono ricordi sempre pensate caterina drin 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 ah drin drin il buio mi potrei anche buttare tanto ah è quella lì sul sul portico lì sul pontile cos'è un carino un carino un carino infuocato cos'è qua dove sto guardando io c'è tipo quello che hai visto in warcraft ah è quello che ho sposto stoccare te la ricordi se vuoi sembro pure un metà orsumete come te se vuoi sembra un metà orsumete se vuoi essere diritto nella mia oh sempre la solita cosa ok eh come l'ha pronunciato eh come l'ha pronunciato after you deal stintra cursed contraction I almost had figured out when a ghost float cos'è le cursed contraption no e sento sento sottofondo chi ha le casse fantasmi voglio comunque parlare con tutti prima eh ok arrivederci due sono esattamente a nord da noi e uno è a ovest il massimo ovest è lontano beh andiamo al primo nord qua vicino quello più vicino si andiamo ancora più vicino si prendete quel coso l'indio è luminoso che cos'è praticamente se non ricordo male se ne prendi 3 ti dà poi uno skill point a capito c'è un granchio invocato la se non dobbiamo andare dall'altra parte uscina io vedo anche il tipo il calore che mi fa oscillare il monitor se guarda il caldo non so se lo vedono anche gli altri poveri no ma non so si ho avuto e lì che è bello anche il suono della lava come l'hanno fatto senti i suoni di sottofondo e belli nomi pronunciabilissimi in teoria di qua dobbiamo andare oh che bello regge ho un porto sulla lava orca regge si vogliamo saltare si regge regge voi provate io passo uuuh uuuh dobbiamo andare a sinistra però eh penso che dobbiamo andare giù di là si ecco lì la toga è quella lì non la vedo a sinistra guarda sinistra lì la vedo la vedo pazienza quando corri apri la mappa non puoi cambiare direzione spandare sono stati attenti ma non mi battere quanto qualcosa ah si è tutto meccanico davvero guarda sono tutti così meccanici bello è diventato horizon sono da solo e aspetta aspetta un attimo non sembra complicato cos'è questo fugitivi altri altri giocatori erano e che power anche qua ma quanti sono sono più in tanti che bello però cioè è una cosa è un genere particolare wow eh aspetta forse qua c'è della roba c'è del loot? no c'è una sedia un grimardelli un martello ma non si può prendere fiale qua c'è qualcuno eh lì adesso ce ne sono due pronti? vai dove sono? ah eccolo oh cazzo ce n'è uno dietro non l'avevo mica visto si io guardavo quei davanti qua c'è scusami eh ma c'è un altro là attenzione oh è morto ma sono vampiri non ho visto si dovrebbero essere così dicevo ci sono altri due si entro dal combatte c'è un uomo è un altro pelle un altro giocatore si a volte trovi altra gente che faccio gente massacchio oh mi piace che lo scheletro si butta sul primo che trova ti d'altro sono anche salito di livello ma a me manca ancora un po' mi sa ma questo m'ha salutato no non mi ha fatto ancora salire ma adesso chi è che cazzo? ma chi è? eh l'abbiamo liberato l'abbiamo liberato dai oh c'è qua uno si c'è un altro stifo oh c'è qua un cosa enorme ah si questo è un mini boss cioè un mini boss che cazzo è soprattutto è un robottone ah ecco qua c'è un foglio ah queste sono le note ah stai facendo il livello? si ne approfitto a questo punto anch'io tanto non sto io ho messo un'altra abilità dal bastone nuova abilità parlavano del ragno comunque ah ma c'è un altro qua c'è il ragno meccanico ah ho preso il controllo rod no c'è gente qui ma non mi fa interagire a me non lo fa prendere perchè ah no perchè ce l'avevo io il rod perchè avevo io il rod ok adesso ho controllato il ragno e sta andando a sbloccare la cosa ne sono tre qua eh raga ok io sto guardando il ragno ma non ha funzionato ho visto ne mando un altro qua c'è un altro aspetta aspetta ne mando un altro eh ma me le fa prendere a me scusa eh ce l'ho io il rod ah ok ma perchè questo l'abbiamo dovuto uccidere scusa ah perchè non tutti perchè alcuni non non come dire si ribellano i comandi vediamo vedi invece questo va oh l'ha sbloccato ah sblocca lo scrigno condotto inverso preso buon fatto se dobbiamo andare a sinistra ecco ci dobbiamo passare va bene tanto sono delle merdine uh va che bello che c'è un un rivolo di lava là c'è anche uno che è saltato c'è anche uno che è saltato Busti però di dove è andato occhio stavo cadendo nella lava eh ho visto ah c'è un altro coso luminoso là a destra raga raga è lontano però poca miseria scusa che c'ho una gallina qua sopra e una gallina no no una gallina ma che bello il sole no questo è un vino inca comunque in teoria comunque in teoria non ci interessa ah però c'è una shrine andiamo a prenderla andiamo a prenderla un'altra poi c'è un'altra ma non è che l'abbiamo già presa no nero ah io muovo ma è questo hai mi sono fatto palissimo la mano mentre mi capo c'è uno che guarda la mappa ok ok va bene è al sud est dobbiamo trovare un modo per arrivarci proviamo ad arrampicarci di qua no no eccoli no non c'è c'è una strada migliore no che stanno arrivando se vogliono proprio morire appunto adesso scappano scappano cioè ho sentito un rumore stranissimo si anch'io tipo un verso ah là c'è uno schifo occhio dove è tirato via è morto basta nonostante 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 come qua dentro con quinto via qua vicino anche i rumori ambiqui tipo i millepiedi qua sta quello con i fantasmi eeeh non mi ricordo più ma io mi perdo qui dove cazzo ma qua c'è un portone che bello di ram bel portone di rame vediamo è sulla destra e urca ma che roba eeeh dovrebbe essere cosa c'è lì si si deve scendere si deve provare il modo per scendere poi la sulla destra c'è una eeeh ah si da una mano no mi sembrava un burrone invece invece no si scende ah infatti è vero ha gayato un po' di gente a me esatto ah che belli sti cosi aspettate oh è correndo come sa quella cosa scusate oh cioè qua c'è una di quelle cose da prendere dove? qua come ci si ah si oh la madonna come ci arriviamo lì sotto sotto forse ah boh si può scendere oh ma anche se lo tende giù di qua aspetta si saltando giù teoricamente no si può scendere di qua eh anche c'è un altro schifo oh oh come si fa? qua qua fa il giro largo qualsiasi cosa fa Daedalus non fai la e vedere che va bene si ma è bruttino passare di qua ok ok eccoci oh merda e se ci vengono io lo so apri andando nel senso opposto delle frecce no io non sono così si è vero sto andando nel senso opposto delle frecce ah esatto si si ha un sito di qua oh che paura ahia c'è la con me questo bastardo ahia no ho ucciso anche un topo si è ucciso anche il topo ed era buttabile tra l'altro oh che cazzo che escono fuori dalle fortute pavimenti ma no dove li buttare ho trovato anche un bel eh no la strada che va adesso è quella è quella in alto guarda però secondo me non è ma eccolo lì guarda lo vedo lo vedo eccolo è qua è qua è qua eh cerchiamo uno schifo qua eh tenera uno qua vabbè eh tenera uno qua vabbè io io c'ho la c'è cosa che ghiaccia ma anche io ho un paio di cose infatti non so se sei citato tu o io io ho quello che ghiaccia a noi è quel colpo ah questi jake jake ins tessuto a mano della salute l'eroe jake ins questo è un po' meglio però mi toglie la magica no preferisco tenere un po' di però mi aggiunge salute due coltelli vado con i due coltelli vado con i due coltelli vado con i due coltelli vado a trovare una cattarola di dai metto questo è giusto perché ti vedo ah che figate i sanguinati fiore di montagna raccoglie ho preso dei fiorillini di campo ci manca l'ultimo coso eh e riuscivamo a prendere l'ultimo cosa ci dava ci dava un punto no non abbiamo fatto eh ma... ma quello l'aria da un'altra parte hop dovete scivolare giù sembrava un corvo quel fungo sulla montagna ma come mi sono messo aspetta no che brutto beh ho sentito un verso si c'è uno di questi insetti wow questo anche la dobbiamo andare a quella di sinistra santuario di yurukashi camp c'è un ponte sembrano olivi però siamo già da un'altra parte si ma che bello quel ponte si uh ma che super templio alla questo fa molto god of war invece carino anche qua anche il panorama di qua bianco per me come bianco no a destra avete solo la nebbia eh devi aumentare che inquietudine sta statua bello che ma devo dire che devo dire che scenograficamente non è male eh si bello ogni volta che mi avvicino alla cesta il fuoco brucia e mi spinge indietro e mi fa arretrare devo capire come chiudere la fornace sembra che ci sono tre valvole di controllo connesse ai a queste fornaci non me ne frega niente beh non è tanto un fantasma visto che l'espo sparato così indietro però vabbè no grande l'hai spostato mentre stampa ai colpi hai dato un colpo sul coppino uh guanti eh infatti è pieno è pieno di fantasmoni sembra delle lanterne più che dei fantasmi ma sicuramente ho visto che ho trovato una cosa un maglio di ferro ma stama non mi interessa c'è un qualcun bello il teschio verde che è arrivato eh si io l'ho lanciato hai evocato oh fuori uh ma che grossi questo si ah no vedi qua qua non si può andare perchè ci sono è bello ma che roba ah beh ma sono qua i cose per che ci vuole oddio però che ah sono questi questo è che dovevi check ma bisogna fermare questi faccio questo va allora qua da un obiettivo che bello ok se vai prima che si riaccendano non è che ha tempo infatti preso via 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 perfetto via 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 sopra ma dobbiamo prendere questo vediamo cosa fa no te lo devo fare ok l'ho costruito lì è sul tavolo prendi non so cosa ma certo che non puoi l'ho inventato poi ti risponde certo c'è una roba spero un prodotto quindi parla farà con due pelle dobbiamo essere in due si una persona usa il tonale l'altro affrontare il tipo ma mi scrive addirittura le istruzioni ok ok